Credo che quest'Olimpiade sia molto particolare e forse tutto quello che abbiamo passato in tutto il mondo con la pandemia si sta ripercuotendo in questi giorni perché sta tirando fuori quel carattere e quel qualcosa in più che ognuno di noi ha che nei nostri sport può uscire in maniera molto più forte. Uno sport che appunto veicola un bel messaggio, il messaggio che non siamo il sesso debole anziché ci possiamo difendere, ci possiamo far valere in qualsiasi situazione quindi questa medaglia è dedicata anche a questo sicuramente e spero che dia coraggio e forza a tutte le donne.